Un saluto a tutti i lettori di androidblog.it In questo video faremo un focus relativo ai comandi vocali di Motorola Moto X Cominciamo con l'accensione del dispositivo Senza toccarlo con le mani Basta pronunciare questo comando vocale Ok Google Now Che tempo farà domani a Sarego? Previsioni per domani a Sarego 13 gradi e parzialmente nuvoloso Perfetto Per avviare un'altra operazione è sufficiente ridire Ok Google Now Portami a Vicenza Navigazione verso Vicenza Sesto Perfetto Oltre a questo possiamo anche aprire varie applicazioni Quindi sempre il solito comando vocale Ok Google Now Ok Google Now Apri Twitter Perfetto Perfetto Il primo colpo Proviamo ora con Google Plus Quindi ok Google Now Ok Google Now Apri Google Plus Apertura pagina web Perfetto Continuiamo con Possiamo provare anche una chiamata Facciamo una chiamata di prova Ok Google Now Chiama 155 In servizio cliente